Ciao a tutti, sono Spiegelaventato e benvenuti in un nuovo video qui sul mio canale. Come vedete siamo su Techcraft, siamo alla puntata 21, sì, e allora, quello che dobbiamo fare oggi lo sapevate già dalla scorsa puntata in quanto ho scritto questo bellissimo cartellino che adesso distruggerò, devo fare una specie di smistamento chest però invece che smistare le cose nelle ceste perché abbiamo già questa, la chest gigantesco, gigantescherrima, perché ho preso questa, ok, smistaremo gli oggetti in modo tale che buttandoli nella chest, magari in questa stessa, si cuoce automaticamente se devono essere cotti, qua sta per finire lo spazio quindi credo che farò un altro barrio, almeno credo che lo abbiamo già, yes, comodo tutti i facchi, ok, lo metto qui, e appena vedo questa per finire metto questa qui, perché i barri accettano solo da su, da sopra, facciamo così, tac, allora, alloca, 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 una, dicevo, allora, quello che dobbiamo fare oggi, allora, il computer lo possiamo mandare a, fangala, elettronica, ciao, ciao, eh, sì, l'unica cosa che ci serve è il floppy, sì, da qualche parte, non mi ricordo dove l'ho messa, ma sono tettagli, va bene, va bene, lo troveremo come poi, allora, vediamo un pochino innanzitutto quanta memoria abbiamo usato, sì, ho visto che vi è piaciuto molto il vlog, ne farò degli altri, eh, contate che quello l'ho registrato venerdì, perché sapevo che sabato e domenica sei stato totalmente impegnato da non poter registrare, allora, trovandomi là con degli amici ho detto, bah, facciamo, dai, boh, sta, 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 quindi, oggi dovrebbe essere martedì, quindi, beh, sì, 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 perché per oggi non ce la faccio a farlo uscire, come ho già detto, perché sto registrando lunedì dopo pranzo, eh, non ce la farò mai a far uscire l'episodio per le, per le 5, eh, anche perché per le 5 c'è già previsto il vlog, che voi avrete già visto, naturalmente, quando uscirà questo video, eh, ma è tutto un casino, insomma, allora, dicevo, quello che dobbiamo fare ve l'avevo già spiegato, allora, la domanda è utilizziamo la Billcraft? No, no, non l'ho fatta apposta. La domanda è utilizziamo la Billcraft, la risposta è, oh, funziona anche qui, praticamente tenendo premuto a control, anche se in questo caso mi fa il zoom, tenendo premuto a control e caricando la QT, eh, droppa tutti gli oggetti, cioè, se noi prendiamo la QT, ne droppa uno solo, se noi tenendo premuto la CTRL, quindi control, più Q, vabbè, ah, ok, basta, non ne riesce a nessuno, dai. Allora, i macchine che ci servono sono, pulverizer, lo mettiamo sotto, sì, sì, non mi ha che lento, vabbè, ne. Allora, pulverizer, poi, powered furnace, assolutamente sì, eh, ok, poi induction smelter, no, basta, solo quelli, eh, magari ci prendiamo, abbiamo la branch, yes, diciamo così, zack, zack, eh, perfetto, qua richiudiamo, ci prendiamo questa cesta, non dovrebbe esserci niente, ce la prendiamo per modo di dire, ce la togliamo da mezzo a, lì, suar, nì, 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 nò, allora, attenzione di farlo qua, magari in questa parte stesso, visto che abbiamo anche la corrente, la corrente, oh, vedi, abbiamo la corrente, magari usiamo la, 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 come si chiama, la, 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 come si chiama, facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto qui, allora, noi normalmente potremmo utilizzare una cosa, no, aspettate, aspettate, che, ma che sto dicendo, quanti slot ha questo, no, non questo, questo, 2, 4, 6, 8, perdo uno slot, vitale, alvaro vitale, oh, 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 principalmente per adesso ci interesserebbe cuocere, anche pulverizzare, sì, 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 no, no, tutto due, tutto due, absolutely, va bene, utilizzeremo un'altra mod, allora, quello che ci serve per l'altra mod, l'abbiamo già utilizzato, si chiama filter, abbastanza semplice da craftare, vediamo se ne abbiamo già, no, no, allora, ci servono, vabbè, cobblestone, gold, piston, ok, pistone ce l'abbiamo, questi mi sa che ne avevo fatto di più, red, exactly, ops, 2 gold, e 5 cobblestone, pietra, 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 e pietra, ecco qui un filter, e questo filter ci servirà principalmente per prendere le cose da una chest, che dovremmo fare, perché ne facciamo un'altra, ho deciso così, è troppo un casino usare questa, a parte che abbiamo già collegato a che succede, sì, allora, dobbiamo fare quindi una ender chest, aspettate che sposto un po' la tastiera, ok, per fare un ender chest ci servono due obsidian, una chest, un ender pearl, allora, obsidian, yes, una chest, ce l'abbiamo sicuramente, ender pearl, ender pearl, pearl, poi abbiamo, oh cacchio, la lana, wall, no, non abbiamo lana, e la lana si può fare con le strings, ovvero, ma strings ne abbiamo noi, no, cazzo, azzarola, le strings non si possono fare, twine, vaffangala, merda, nella cacca, nella cacca, sino al collo, si il quisto, ok, facciamo così, facciamo arrivare a notte, e andiamo, oh ti può ammazzare un sacco di, tori, sì, dei tori, ok, come vedete a notte andiamo ad uccidere qualche maccabanane, come si suol dire, quindi, spada alla mano, stronzi, qui davanti, ci serve per un, un gragno, eh, quanto correte, mamma mia, siete proprio satanati, assatati, assatati, mi stanno uccidendo, ok, ho perso contro, eh, non puoi lagare in questo momento, ma perché, ok, ho recuperato tutto, ma che succede, no, 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 c'è quel quadro che non cosa, ma, eccomi, credo di aver risolto, credo, non prometto niente, niente, io odio i ragni, anche su minecraft, quando mi servono i ragni non ci sono, ma è normale, tutto normale, ciao, come vuole dita, bene, anche me, ehi, ciao, mi chiamo, tu come ti chiami, grazie, mi piace un nome, brutti maiali di un, cazzo, siete pecore, lo so, non lamentatevi tu, ma fai un culo, ben, scusate, il mio ego, mi ha detto, mamma, 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 civis, eh no, eh, eh, buon mi ha rotto, li goglioni, grazie, non sono ancora morto, magari torniamo a casa, magari, non ti uccido perché, non credo essere in grado di farlo corri corri coggete sciocchi dunsica dunsica pum pum allora abbiamo un pezzo di lana un pezzo di strings quattro pezzi di strings tra l'altro per la cronaca se come si dice se noi usiamo per esempio light grey ci farà la chest del colore della lana principalmente cosa che noi vogliamo facciamo così e poi delle blades natural monte dobbiamo farcele e quindi ci serve la 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 minimum stone minimum stone non esageriamo che sennò poi dobbiamo sono nel nether, a prenderle e non ci tengo, magari mi pulisco un po' l'inventario già che ci sono, ah ah, questo è da ripiazzare tre blocchi, la mettiamo qui poi, tu va a fan book tu va a fan book a mamma te, bone, arrow spider eye, shard of minimum iron ingot zombie brain, chest chi chest? tu vai là, signe ok, poi facciamo, no, stavo per fare una di quelle cretinate di cui te ne accorgi sempre dopo, perché non mi fa oh, perfetto ok, abbiamo quello che ci serviva, ci sarà un lapis la su, lapis la su, tac allora, l'idea è questa è questa eh, si si può fare di più mostra allora filter sac quindi questa aspira da lì con un impulso naturalmente ok benissimo però noi diciamo non aspirare tutto tu non puoi aspirare tutto perché tu non sei niente tu non sei nessuno eh, perciò le diciamo eh, prendi dei tubi no, ma che faccio ho questo eh, tube brass nooo che palla devo fare di nuovo il brass che si fa l'alloy furnace con tre copper e un tin tre copper e un tin alloy furnace abbiamo ancora un alloy furnace tra di noi no, si ce l'abbiamo probabilmente eccola ma questa ci serve la mettiamo ma che ne so qui eh, cosa prendiamo ma che ne so questo massimo così ok ok tre copper e un tin quindi facciamo ne facciamo un bel po' sì, 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 sì ah, tum, 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 tum eh, cos'è la TV boh, vabbè, riproviamo così sì, sembra andare allora, dicevo, dicevo non mi ricordo cosa dicevo perché mi ha interrotto sto lagging ecco cosa dicevo allora, con una 780 non riesce a non c'è Minecraft a rufa king cioè, in realtà, lo regge solo che certa volta arriva a 10 fps da nulla così perché ne ho voglia sì, questi ci possono già bastare tanto ci vuole il glass normale, credo yes credo sì ok, ci prendiamo un altro pochino di brass magari anche questo dai dai, dai grazie diciamo così perfetto abbiamo 40 pneumatic tube questo lo possiamo buttare nel chestum allora quello che voglio fare è più o meno questo allora magari questa la spostiamo anche di uno 2 giorni dopo no, basta lo mettiamo qui qui dobbiamo collegare perfetto e questo quindi aspirerà le cose quando ci sarà un impulso di redstone che sarà un timer fatto con la computer craft e aspirerà a tutto quello che trova e lo porterà lo porterà sì, sì, sì che bello avere questo un po' di cover lo porterà ma non c'è tanto questi ci servono questo mi serve voglio richiederne altri energie eccoli qua ditemi che non è comodo e vi ammazzo allora sì però tu facchi tutti facchi anzi no, in realtà sono due macchinari perché ho fatto tutto sto casino vabbè facciamo così no, credo di stare facendo una enormissima e gigantesca cassiata, ecco sì, ecco è proprio questo quello che sto facendo allora quello che devo fare è innanzitutto dare corrente ai macchinari e stare incominciando ok lo farò da sotto principalmente perché perché sì, ecco perché sì tanto qui il cavetto non disturba a niente ok mettiamo i macchinari mettiamo pulverizer innanzitutto pulverizer powerhead furnace ma sto dicendo una cassiata mi sa che così non va poi così tanto bene interesting inter interesting sì, sì che va bene ma sì ma sì emiliano allora le dico innanzitutto giusto per capirci ok così quello che avanza lo mandi tipo a fanculo come vuoi tu no, lo mandi su sì allora quello che voglio fare è questo arrivano delle cose da qui solo le cose che le diciamo noi no, ma anche così mi sembra no, facciamo così dai eh, mi tutti senza questo no, in realtà questo serve però no, senza nessun filtro cioè il filtro c'è però senza metterci niente qua dentro perché se noi tipo mettiamo questo noi diciamo che può passare soltanto questo allora questo estrae dalla chest dall'under chest arriva qui se può cuocere entra se non può cuocere vaffanculo no ok devo pensarci allora fatemi pensare arriva qui arriva nel filter tac e dice you shall not pass ok allora dice va bene non posso passare no forse l'ho messa troppo in qua questa aspettate un attimo eh mi ero se gioca di canati eh luridì cagni permettetemi di usare questo zack perfetto mi prendo la vrench prototipo omnivrench zack eh sì ma fa cof ok però qua non ci sta fare niente ok allora li metto tipo qui sì yes mettiamo pulverizer no 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 sto rifacendo un emerito cazzata scusate l'indecisione ma lo sto pensando sul momento non ho preparato niente anche perché non ho avuto il tempo sto registrando per miracolo oggi come al solito d'altronde non è che cambi molto vabbè allora l'energia adesso c'è in tutti i due macchinari io le dico qua allora qua mi serve che smisti cioè le cose che non servono se le può tenere ok le cose che invece può cuocere o deve cuocere anzi sarebbe il termine più adatto le deve mettere là e quello che mi serve è un filter va bene e poi deve avere un'ora di tutte le cose da cuocere per esempio il più è per iron non ce l'ho devo andare un po' sentite spero che non sia troppo difficile trovare un'ora un'ora di iron aspettavo forse esiste ancora la cesta da cuocere tipo no anche perchè non c'è niente da cuocere cosa ho? niente vabbè ci vediamo frappe prendo un'ora eccomi qua allora ho preso un un iron no cosa dico un paio di ore di ogni cosa di ogni cosa parliamo non ho trovato neanche un po' di silver cioè in realtà si ne ho trovato però uno mi dispiace ho tentato di cercarle ma più di così non potevo fare perchè nel tempo come solito scherseggia ma dovete aspettare un attimino ci veniamo ok eccomi qua allora dicevando dicevo stavante ok basta allora mettiamo un'ora di ogni cosa tipo un'ora di iron gold copper non ho trovato diamanti allora mettiamo qui tutti quelli che mi hanno già fatto iron gold copper tin led lead silver e poi mettiamo nient'altro zac 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 invasion scusate allora non mi ricordo più cosa stavo facendo porca c'era vabbè ah si tipo stavo scaricando quello che c'era da scaricare dal le mie torcine dove sono sono qui dove sono allora quello che avevo quello che volevo fare è questo prima il pneumatic tube li mettiamo in modo tale che facciano una cosa strana allora la cosa strana è questa anzitutto le diciamo entrata a sinistra su questo non ci piove uscita a destra ok l'uscita delle cose in più sopra e le diciamo allora la roba che entra la roba entra qui la roba entra qui però ci vuole un altro filter o forse non ci vuole però lo faccio lo stesso se non ci vuole poi me ne accorgerò si c'è ancora il bla 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 fa fa filter filter 2 gold 2 ls gold mio figlio poteva morire ok basta il piston red pallina cobblestone ok in modo che filtri le cose in realtà ce ne servirebbe più di uno no magari no magari no ma che cazzo sto facendo sto facendo quello che voglio fare cosa è mi serve una cosa che ma questo estrae le cose che dico io cioè se io butto queste nella cesta non le estrae estrae soltanto questi ore ok li porta qui per macerare e si qua non ci serve nessun filter l'ho fatto per niente qua macera e poi fa così le cose che invece non le servono le mette ci serve un po' di cosa nella plaid no 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 ok ritorno subito faccio un po' di export e import e con un po' intendo tipo ne faccio sei di ognuno a frappe eccomi qua un paio di notizie da darvi allora la prima è che abbiamo un sacco di import ed export cioè un sacco 8 di ognuno poi abbiamo un po' di cavi che sono avanzati ok eccomi speriamo che non ok credo che non lo stia più facendo allora dicevo un'altra cosa è che abbiamo un sacco di pistoni cioè tipo 13 che non sono pochi alcuni diranno che sono pochi io dico di no allora quello che ci serve l'ho fatto e credetemi ci ho messo un bel po' infatti sto praticamente finendo il tempo nonostante la puntata sia abbastanza corta o perlomeno più corta del solito allora quello che devo fare è semplicemente tutte le cose gialle che fa devo dire prendita quindi io sono l'impianto che devo fare è importare le cose devo importare le cose e faccio salire il cavetto ops si faccio così ok in questo modo tutte le cose in più di scarti che escono se li prende l'impianto così perché ne ho voglia come al solito ehm quali dico entra da sinistra sopra non fare niente ok esci da destra da destra la stessa cosa import con l'umni range range l'umni range range in particolare ok basta e l'ho connetto qui cosa ha preso l'avete visto anche voi the fuck ok questa naturalmente non è niente in confronto a quello che devo fare perché allora oltre a prendere quello io direi anche ma si ma si Emiliano ehm eh 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 innanzitutto prendete per stack stack move stack of items ehm anche qui dire di dirle stack of items of items items ehm si e qua ci aggiungo un paio di altre cosette per esempio abbiamo dei polli un pollo no ho sbagliato dove ti trovi eccoti qua polli come si dice polli 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 cerchiamo così vediamo un pochino cosa abbiamo ehm abbiamo il merito palazzo poi mi ricordo di avere della carne e del pesce non basta della carne della carne proposito ecco allora questo per adesso lo dichiariamo quasi chiusa anzi non l'abbiamo neanche provato in realtà ok ho buttato degli or prima li prendiamo subito questi ok e facciamo così ehm si così buttiamo questo e vediamo se si li prende prima se li prende prima l'impianto brutto figlio di una buona ehm donna come si suolla dire e se facciamo che questo filtro è tutto quello che non riesce a prendere lo butta da un'altra parte ahm scusate si 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 ah ok così utilizziamo il filtro allora vi spiego quello che voglio fare questo filter lo mettiamo qui ah ma che sciocco ma che sciocchino ma che sciicchino vabbè lo mettiamo lo stesso qui perché tanto ci serve non così ti odio la mettiamo il filtro così così dice perfetto ehm facciamo così vabbè iron gold copper silver lead tin iron gold ah sta rifacendo iron sta rifacendo iron gold copper ottego gold copper ok non so più cosa dire dicevo iron gold copper ehm tin lead silver portare che questo dica polverizzali ok polverizzali ok qua li togliamo tutti perfetto qua abbiamo abbiamo computer questi no eh però abbiamo messo nella cestolina ma quasi quasi no mi sembrerebbe uno spreco enorme usare quel computer facciamo un altro computer mi ricordo che c'era della stone in mezzo nel crafting vediamo se me lo ricordo glass se me lo ricordo sono un genio ecco se me lo ricordo sono un genio ok computer poi ci serve il drive drive è il floppy no è il disc floppy 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 dove il mio flotto il mio flipi flight devo veramente riguarda la puntata l'altra volta devo veramente farlo è così ok oh allora fatemi vedere un pochino perchè mi devo complicare la vita queste cose ok l'ha fatta apposta saluta la parlantina non guardo veloce qua perchè mi ricordo che avevo copiato un programma da qui abbassiamo subitizing il volume qui non c'è niente non c'è il disc drive quando può essere non so non so quante mele ci sono ok credo infinitamente che sia finito lo spazio devo correre ok come ho fatto una congermene accongermene accorgermene accorgermene eh sì 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 però io voglio di nuovo il mio floppy scusate paper redstone paper mate replay floppy disk mi sono stufato mi sono stufato di rifarlo diciamo così no ma che faccio mi serve questo va bene lo faccio con voi perchè perchè si non lo so perchè me lo sto chiedendo anch'io mi sa che infatti l'avrei dovuto fare in off camera per non sprecare tempo però in realtà ormai ci sono non posso neanche stoppare il video perciò floppy disk fermati ehm a dire come ti chiamavi come ti chiamavi start up ok quindi ehm copy start up e copialo in disk quindi in in disk quindi si entra in disk e faccio a dire ci dovrebbe essere start up si va pro start up parte il timer si ok si perchè è partito il coso allora io rebotto mi prendo il mio amatissimo floppy prendo questo ok qui ha smesso di buttare la roba per terra la risposta è boh insomma aia va bene va bene va bene insomma non è che vada troppo bene ho fatto una puntata in cui non ho fatto niente pratica ok ok quello che faremo ora è semplicemente finire quell'impianto e poi vi faccio vedere utilizziamo un nuovo macchinario cioè nuovo per poter dire nel senso nuovo nel senso che non l'abbiamo mai ehm usato perché ho fatto questo facciamo così label set label set timer ok ehm si le dico si lo copiamo ehm copy disk startup e startup ok quindi si faccio dire ho uno startup yes ma questo me lo riprendo questo lo rompo questo lo rebotto si perfetto tu fa più tu fa più ehm tu no sarà perché ti amo era questo il lato il lato scuro tanto lo devo modificare startup left si è giusto perfetto adesso proviamo di nuovo speriamo che vada bene vada bene allora faccio così butto questi stai acchiappando la roba filtro filtro ehi filtro che succede allora ho capito cos'è e quindi ci tocca si poi lo rimetto questo allora quello che ci tocca fare è questo vi spiego ehm questo prende la roba se non puoi entrare qui qui abbiamo un filtro se non puoi entrare qui vai in una cesta qualsiasi così mi viene una cesta che prendiamo adesso visto che abbiamo staccato il tutto cesta va in questa cesta ok allora ricapitovando noi inseriamo gli oggetti qui che vengono presi dal filter che cammina cammina arriva qui c'è un bivio se può entrare in questo filter allora entra qui se non può entrare va nella cesta quale cesta? questa e perché la facciamo entrare in questa cesta? perché tramite questa cesta è un import un import bus la facciamo arrivare all'impianto così e qui questa la togliamo ma vabbè in realtà no può servirci per scaricare possiamo ancora farlo ok e la prova la facciamo subito però prima di diciamo di muovere stack interi dove si trovi allora buttiamo questi che vengono presi e entrano qua perché possono essere presi vengono cotti e sbarazzum boom ecco questo che viene messo qua non viene importato perché non viene importato? import bus move stack of items ti odio no no ti odio non so se che hai vinto ti odio profondamente profondamentissimo si 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 io sono il macchinario devo importarti giusto giustissimo tu dimmi che non è compatibile no no ripeti beh in realtà si risolve abbastanza easy peasy lemon squeezy perché ah questo lo rimettiamo qui guarda success point ok ci riprendiamo un'altra chest e lo risolviamo come abbiamo puntualmente già fatto cioè così qua dovrebbe scaricare le cose dovrebbe si l'ha fatto e poi mettiamo un punci punci bababum bababum mettiamo un import dove sei? import lo sbranciamo tanto l'impianto si collega ok come vedete oh 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 ho sbagliato sbagliato ho sbagliato ti apro ti dico move stack of items qua viene tutto preso quindi abbiamo lo scarico completo bla 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 buru bum 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 quindi abbiamo un circolo abbastanza vizioso si dovrei dire di si e niente abbiamo fatto il nostro per adesso semplicissimo cosa di smelting automatico iron ore lead dove puoi tenere vedete che se li prende lui qui facciamo così direi anche di fare cosa ah e proviamo a mettere una cosa che non c'entra niente con l'impianto tipo diciamo così e mettiamo questi se li prende poi vengono estratti si gli oggetti qua non posso aprire perché c'è questo però lo posso anche levare volendo come vedete vengono presi tutti questo lo possiamo mettere dentro questo 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 e le meleno e me le cotogne no basta allora il prossimo progetto che iniziamo in questa puntata e credo finiremo anche perché è abbastanza veloce è una fonte di cibo la fonte di cibo che ho scelto io è il fisher e non so se qualcuno lo conosce ma è abbastanza semplice da craftare ed è soprattutto molto ma molto utile da fare ora dovrò uccidere un altro paio di ranni però nessun problema eh ci vediamo frappè ammazzo qualche ragno eh vabbè ah fra poco allora eccomi qui chiudi ti porta grazie allora non capisco perché però eh si si è ribloccato si è di nuovo tutto blum adesso vedo che si è bloccato gli fps sono bloccati a 30 così non ho toccato niente io non ho toccato nessun settaggio boh ci rivediamo frappè un attimino porcaccia mi sta facendo impazzire allora ho preso 39 string sembrerebbe buon si copre cioè si nasconde spadere non ci interessano però buh ciao e facciamo delle canne delle fine no scusate devo prendere le lì sticks eh così si e ce ne servono tre una due non è impilabile tre ok poi due bucket dovremmo averli si che culo proprio due poi factory machine block ah plastic sheets plastic merdex eh factory machine block eh no questi vanno giù e qua vanno le canne le canne le canne fisher price allora funzionamento di nuovo notte vabbè in realtà è passato l'ombretto no non è vero ah la schiena scusatemi tanto allora dobbiamo portare energia nell'acqua principalmente anzi principalmente non ci servirebbe dell'acqua però lo mettiamo nell'acqua per no proviamo a fare una cosa allora principalmente questo va messo nell'acqua cioè sopra l'acqua e lui si occupa di pescare tra virgolette i pesci perché in realtà non è che li pesca in realtà li produce però vabbè il macchinario dice che li pesca eh io so da fonti abbastanza sicure che eh diciamo che pesca ad cassium ecco nel senso che non è che pesca ma bensì perché l'ho fatto se poi tanto devo risalire lol ma bensì produce come vi ho già detto produce i pesci nel senso che non è che li pesca veramente li pesca per modo di dire ehm e questo permette di farlo pescare in una fonte di acqua infinita semplicemente ed è quello che sto provando a fare allora quindi se io metto qui devo richiudere tutta aspettate che aumento il volume tipo al boh 15 16 va bene ehm vi frego un po' di cobblestone anche se quando è che dovrebbe essercene tanto ci accontentiamo perché non la metto non la metto troppa perché avevo paura di finire lo spazio ok official price perfetto metto una qui dove sei? eccoti qua una qui zac ehm dovrebbe tipo funzionare così ok bisogna dare l'energia naturalmente quindi c'erano anche i cavozi energy energia la devo prendere per forza da qui mamma mia che bruttezza facciamo passare sotto terra a questo punto ti ho cercato ti odio non sapete quanto ci ho messo aderita quella tutta quella parliamo adesso sta finendo anche però vabbè quella è colpa mia ok sì così può andare sti cacchi sono un cucchione effettivamente questa puntata non dovrebbe essere troppo divertente per voi per lo meno e lo metto allora arriva qui questo dovrebbe essersi tipo caricato e dovrebbe tipo spararmi pesci adesso vediamo se funziona mi sa proprio di no però vabbè abbiamo provato almeno perché se non funziona ci serve un redstone no un redstone scusate un tessera un energy tessera e che pizza facciamo provare scusate a farlo sì non funziona ah ya 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 vaffa mucca aspettate ma io sono un idiota no non è vero non essere così duro con te stesso dicevo cavozia e bolletto un'altra sistemazione e questa dovrebbe essere la nostra fonte di cibo ecco ecco eh sì basta però ci servirebbe una ender chest però noi facciamo così boom boom energy tessera sì dopo vent'anni che lo faccio non mi ricordo ancora il crafting perché noi dovremmo avere delle elettrum noi dovremmo averne vero ecco elettrum si si ma c'era un attimo che tol zitto non c'è chiesto niente time o time o non posso fare il livello dell'energia da un boom bo 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 ok ci vediamo fra poco confuso ancora eh facciamo altri cinque minuti no ho sbagliato tutto sbagliato scusate vabbè frappe ok no che cosa ho fatto ho fatto tre cazzo che ballo vabbè dai magari se ci saranno più avanti dovete trovare il suo posto non è stato per finire il ferro vabbè 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 tu 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 ma ci serve del della cobblestone ci serve della cobblestone o meglio questo ci avrei fatto una di quelle figure po bo 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 ehm merda se non avesse funzionato tac tac lo mettiamo un bo lontano può bastare può basticchiare anzi eh no ancora un pochino qua lo mettiamo così ci mettiamo l'accesso sopra ci mettiamo l'energia tester atto per lo meno uno dei tre facciamo re 6 energia a casa e vediamo se funziona mamma mia l'energia come sale lentamente sta facendo pesci naturalmente più sale l'energia più veloce credo vabbè noi in questo caso lo vedremo ma però ci serve un pesciolino se no come facciamo a farlo coci ok mi sono messo un attimo in magneto perché non voglio perdere il cobblestone non sono tirchio solo che la cobblestone è importante allora quello che dobbiamo fare adesso è innanzitutto aggiungere il pesciolino nel filter in modo tale che cuoce anche quello appena ne pesca uno vediamo se ne ha pescato qualcuno si un bel pesciolotto lo aggiungiamo al filter no 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 non facciamo estreme non posso metterlo nel filtro sapete perché vi spiego so Diego come al solito vi spiego il fatto che mi infligge è che se lo metto nel filter mi entra nel pulverizer qua non deve entrare perché questi sono ancora qui golden lead golden lead perché non sta funzionando c'è tu vuoi dirmi che niente vabbè niente compatibile so duri di cagni canluri di come dire non sanno con chi hanno a che fare allora vi spiego evidentemente non è la buildcraft non è compatibile con la update energistics ma noi risolviamo come abbiamo fatto nelle altre due situazioni chest infatti basterà mettere una chest qui un import bus sbranchato ad hoc come si suol dire tipo così le diciamo di prendere stack interi bah mi sono stufato se lo fanno un'altra volta lo lancerò alla finale non è vero non lo farò mai ok allora adesso dovrebbe essere tutto a posto tutto a porno ok dai 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 ce la puoi fare ce la puoi fare ci tocca mettere un altro filter eh si grazie per il messaggio ma non ci interessa si ci sarà un altro filterino filterozzo tozzo tozzo filterozzo ne ho fatto in più spero mazza rucchio ci serve no il brass non ci serve in questo momento vabbè vabbè ne vediamo un po' come si può fa fare ma si ma qui possiamo anche mettere gli export allora gli export funzionano come gli import cioè muovono gli oggetti dentro le all'interno del nostro del nostro sistema e quello che ci serve a noi è importare cioè esportare dal nostro sistema diversi oggetti e metterli nella powered furnace ingresso verso sumo probabilmente non lo supporterà perciò ci vuole una chest no ma che dico no ma che dico no ma che dico ma se io metto uno così funziona secondo voi proviamo subito la misura no ma che faccio no ma che faccio allora quello che voglio provare è questo se noi mettiamo un pneumatic tube poi dopo questo chiudo la puntata perché mamma mia chest chi chest come al solito ci metto un export bus lo sbrancho si è finito il timer lo so benissimo lo sbrancho a dovere no ho sbagliato ah ho sbagliato le dico che può entrare no le dico move stacks only le dico che può entrare soltanto il pesce poi richiedo un po' di me e cables si lo so che non è un plurale però vabbè però vabbè sai com'è saliamo su scendiamo giù la realtà brucia la realtà brucia perché non può essere fatto tutto ciò solo se facciamo così cosa alquanto come dire inutile allora allora non so cosa fare non so più ok uno di questi giorni mi banderanno un video no vabbè ok allora quello che dovrei fare sarebbe semplicemente mettere un export qui ma non credo che funzioni vi spiego anche il perché devi prendere solo pesci in faccia devi sbrancharti esatto funziona ario exactly fucking chi dimmi no non può essere non sta funzionando vediamo un po' ma che grandissime pa pa stiglia oh oh sta funzionando si 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 può fare allora vi spiego adesso quando arrivano i pesci salgono su visto che qua non possono entrare e you should not pass come al solito vanno nel nostro sistema zan 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 arrivano là dove c'è la memoria centrale poi fanno oh ma aspetta c'è una cosa che mi richiede ed è questo che li richiede li fa inserire qua automaticamente si cuociano automaticamente ne facciamo così fish li troveremo sempre cuociuti cuociuti scusate l'italiano è molto importante con la naturalmente e niente questo è il nostro sistema di di come si dice smelting automatico si si smelting automatico e faccio uno screen ma che ore sono alle 20 e 14 ma abbiamo iniziato dopo pranzo e ho finito tardi leggermente vabbè contiamo che c'è stata una bella pausa di 3-4 ore il che rende tutto più semplice però vabbè allora questo è il nostro sistema di smelting e facciamo un bellissimo screen 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 così zack 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 dobbiamo fare uno quando arriva il pesce il pesce il pesce pesce zack zack non arriverà mai il pesce non arriverà mai vabbè abbiamo visto che funzia come si swall qua naturalmente in questo potrò mettere anche altre cose naturalmente diverse altre e la sensazione del disco a parlare e diverse cose oltre al fish perché naturalmente c'è tipo i polli la carne in ogni caso vanno cotti e e niente dai adesso chiudo la puntata perché è durata fin troppo o o ops dovrei abituarmi a registrare di sera così cioè perlmeno prima il registro di notte non è che cambiasse molto però vabbè 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 io sono Spiga98 come al solito se video vi è piaciuto mettete mi piace iscrivetevi condividete mi trovate sempre su twitter google plus e sul mio sito spiga98.x10.mx come faccio sempre vi consiglio di scrivervi in tutti tutti i totti i social network no non tutti in uno di quelli che vi ho proposto prima o magari direttamente controllare il mio sito perché lo aggiorno abbastanza frequentemente e se non potete accedere a questi social network state tranquilli che comunque ehm alcune informazioni le do anche sui feed di youtube quindi basterà semplicemente dare uno sguardo al canale ogni tanto se non vedete i video ehm e niente il video è finito ciao a tutti l'ultima informazione vi ricordo che ehm Spiga98.tech ha bisogno di voi perché ehm sarete voi a farla continuare cioè a scrivere la storia tra virgolette sembra la pubblicità della google ehm quello che intendo è scrivete nei commenti fai la recensione di questo oggetto io lo compro e lo recensisco per voi ehm come vi avevo già detto nel vlog dovete aspettare un paio di giorni perché devo avere il tempo di ricevere l'oggetto dal corriere ehm nient'altro spero che vi piaccia questa idea spero che vi sia piaciuto anche il video e niente io sono Spiga98 ciao a tutti ciao